Nuovo rinvio in vista per Cyberpunk 2077. Il cosio Adam Sikinski ha spiegato che, a proposito della nuova data individuata 21 giorni dopo quella del 19 novembre, si sentono non comodi ma fiduciosi. Che questo possa preannunciare un possibile rinvio ulteriore della data di uscita di questo titolo di CD Projekt Red, nel frattempo è stato annunciato un OnePlus 8T proprio a tema Cyberpunk 2077, che costerà al cambio una cifra intorno alle 500 euro. A tal riguardo, restando in ambito oggettistico a tema videogame, si segnala la collaborazione fra Capcom e Seiko, che ha prodotto degli orologi a tema Street Fighter, a tiratura limitata, ma neanche troppo. Parliamo di 9.999 pezzi, però da moltiplicare per 6, che sono le versioni dedicate ai personaggi che ora vi elenco, Ryu, Ken, Chun-Li, Ngail, Zangif e Blanca. Quindi ci sono in giro circa 60.000 pezzi di questi orologi, ognuno ad un prezzo attuale fino ad esaurimento scorte di circa 450 euro. Passiamo ora ad una notizia che riguarda Diablo Immortal. Eh sì, ne è passata di acqua sotto i punti quando il pubblico ha quasi tirato stracci in faccia alla presentazione di questo titolo. Tuttavia Blizzard è fiduciosa e vi riporto proprio parole interne al team. Daniel Allegre, presidente Seiko Ho di Activision Blizzard, ha infatti rivelato, nell'ultimo meeting con gli azionisti, che il controverso spin-off mobile della serie Harkin Slash sta ricevendo feedback interni molto positivi durante la fase di prova. Questo vuol dire che nei test interni Diablo Immortal sta piacendo parecchio. E' grazie al cazzo di lei. Il problema è come lo fate arrivare al pubblico e quando. Nintendo Switch si dà al Cloud Gaming. Eh sì, avete capito bene. Anche la grande N si affaccia sul mondo del Cloud Gaming, proponendo Control Ultimate Edition da giocare comodamente sulla vostra Nintendo Switch, senza scendere a particolari compromessi grafici, in quanto fisicamente il gioco girerà su server esterni. Si preannuncia forse all'orizzonte una bella cordata NM, Nintendo e Microsoft per bloccare la Sony? Francamente, io non credo uscirà mai il pass Microsoft su Nintendo, ma a questo punto sognare non ci costa nulla. Monkey Island Anthology Qualche settimana fa, Limited Run Games, un distributore di videogiochi con sede nella Carolina del Nord, aveva annunciato la Monkey Island Anthology, che includeva tantissima ciccia. Non solo tutti i titoli della serie Monkey Island, compreso di Tales of Monkey Island, ma anche alcuni gadget molto graditi. Un libro con tutti la scena della creazione della serie. Un poster dedicato all'insulto definitivo, non so se ricordate, ho battuto il maestro di spada. Un biglietto, ovviamente non utilizzabile per il parco divertimenti Big Hoop. Il metico e ormai perduto Disco 22. Uno Shadow Box illustrato, nonché un set di spille. E una statua dedicata proprio al nostro eroe Guybrush Stripwood. Ovviamente il tutto opportunatamente correlato di certificato di autenticità. Il costo di tale tesoro? All'incirca 160 euro più spedizione. Troppo bello per essere vero? E infatti sì. I preordini dovevano essere aperti per il 30 ottobre, ma qualche ora prima la Limited Run Games, sulla sua pagina Facebook, ci fa sapere che il tutto viene rimandato a data da destinarsi, per migliorare il package. A questo punto mi sa che vogliono migliorare il prezzo, perché in effetti mi sembrava un po' troppo basso per essere vero. Speriamo di sbagliarci. Xbox Game Pass Delta Scrolls 6 e Starfield saranno entrambi disponibili su Xbox Game Pass dal Day One. Lo ha confermato ufficialmente Todd Howard nel corso di un'intervista. Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, era nell'area una notizia simile. Resta invece non confermata la possibilità che i suddetti titoli restino a questo punto di esclusiva Microsoft, e che quindi le uniche piattaforme su cui sarà prevista l'uscita saranno Xbox Series X, Series S e PC. Se possedete una console di casa Sony, non vi resta che incrociare le dita e sperare che non sarà così, ma sarebbe un'occasione troppo liotta per Microsoft da lasciarsi sfuggire. The Medium rimandato Il 2020 non ci lascia certo senza Strash chi degni di nota. Dopo l'ennesimo rinvio da parte di CD Projekt Red di Cyberpunk 2077, fu del turno di The Medium, titolo horror di Blobber Team, esclusiva Microsoft, che prende spunto a più mani dalla saga di Silent Hill. Se il titolo precedentemente era preso per il 10 dicembre 2020, dobbiamo invece attendere il 28 gennaio 2021. Neanche tanto a dire il vero. Speriamo che non ci siano ulteriori sorprese. Mass Effect Legendary Edition Era nell'aria da un po' di tempo, ma finalmente oggi è stata annunciata ufficialmente, per la gioia di noi fan della saga. Proprio oggi, durante l'N7 Day, è stata annunciata infatti un'edizione completamente migliorata sia nella grafica sia nel gameplay di Mass Effect. Ovviamente bisognerà attendere il prossimo anno per avere maggiori informazioni, ma fanno ben sperare le parole di Jutsun, che lasciano intendere che potrebbero esserci anche nuovi sviluppi riguardo nuovi capitoli della saga. A quanto pare, l'uscita è prevista per PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e PC. Un consiglio è quello di giocarlo, se siete fra i pochi che non lo hanno ancora fatto. E ora, infine, parliamo di Halo Infinity. Non c'è pace per questo titolo dei 343 Industries e non ci sarà pace per noi videogiocatori. Dopo la presentazione a dir poco scandalosa, escono alcune notizie non proprio incoraggianti. Se mentre Multiplayer.it focalizza i suoi sforzi ad immaginare come possa essere il pene di Master Chief, noi della Tana dei Nerd, invece, parliamo di cose più serie. Da prima, l'abbandono del progetto da parte del direttore di 343 Industries, Chris Lee, e, a quanto pare, il gioco verrà terminato in sua assenza. Altra brutta notizia è che sembrerebbe che tale titolo possa uscire frammentato a pezzi della serie. Me lo paghi tutto oggi, poi il gioco lo vedi piano piano col tempo. Una pratica non poco diffusa e su cui ancora mi brucia il sedere. Anthem vi ricorda nulla? Tuttavia, tornando a Halo Infinite, alcuni rumors, spero voci di corridoio infondate, danno l'uscita del titolo persino posticipata al 2022. Prima di salutarvi, vi lascio con un'ultima piccola chicca. È ancora più ordinabile e acquistabile sul sito di GameStop la figure di Master Chief Halo Infinite. Per soli 60 euro vi consiglio di non lasciarvela spurgire. Dalla Tana dei Nerd è tutto, ciao ragazzi e buon gioco!